Il codice San Inveni è uno dei testi cruciali per capire cosa è successo nello scandalo Monte dei Paschi. Vi faccio alcune domande specifiche. Qual è un po' il peccato originale dell'operazione Anton Veneta? È la prima domanda. Il peccato originale è stato non aver guardato che cosa si comprava. Quindi è stata acquistata una banca pagata in teoria secondo i prezzi di mercato, però senza controllare, senza fare la due diligence, cioè senza controllare che cosa c'era dentro questa banca. Quindi questo è stato poi, ha creato problemi perché il prezzo complessivo dell'operazione è evitato. La banca Anton Veneta non aveva performance particolarmente entusiasmanti. Poi fra l'altro è arrivata una crisi, non ci sarà mai la contropregova, ma magari un'operazione del genere in una fase espansiva di mercato come quella precedente, sarebbe stato magari anche assorbito in quella situazione di mercato, no. Durante l'audizione appena conclusa avete puntato l'attenzione verso il fatto che Monte dei Paschi fosse diventata una banca ad alto rischio, a un certo punto. È lì il cambio completamente di rotta, diciamo. Potete spiegarci bene cosa significa cambiare il rischio, a che livello Monte dei Paschi? La storia viene da parecchio lontano perché noi nel libro abbiamo ricostruito quando questa storia di questa grande autonomia per investire comincia, comincia più o meno nel 2001-2002, nel senso che in poche parole l'area finanza di Siena decideva gli investimenti anche per le filiali estere, però i capi delle filiali estere non avevano la possibilità di controllare quello che faceva Siena, anche se poi erano responsabili. Questo è un po' il background in cui è maturata questa cosa che ha determinato per la banca prendere una posizione di rischio altissimo, tanto è vero che oggi, ora che sono stati fatti i calcoli di nuovo sul contratto su uno muro e le implicazioni che ha su una cosa che si chiama valore al rischio, che è la percezione del rischio giornaliero, cioè stattamente quanti soldi una banca in un giorno può perdere, il Monte dei Paschi nel 2010 risulta che aveva una potenzialità di perdita quattro volte quasi superiore a Goldman Sachs, solo che Goldman Sachs è una delle più grandi banche di investimento del mondo e lavora su derivati e fa quello per noi. il Monte dei Paschi teoricamente dovrebbe dare soldi alle imprese e alle famiglie, però il Monte dei Paschi risultava quattro volte più rischioso della Goldman Sachs. Avete puntato anche il faro sul tema della governance, citando il fatto che Siena si sentiva una specie di reverse governance, potete spiegare bene cosa era? Diciamo che in teoria una banca dovrebbe essere controllata dagli soci e in particolare il Monte dei Paschi aveva un socio di maggioranza con più della metà del capitale, più del 50% che era la fondazione Monte dei Paschi che avrebbe quindi dovuto controllare e dare gli input al management perché si muovesse nell'operatività della banca. In questo caso invece era la banca che agiva e la fondazione che veniva informata su Anton Veneta. È stato scritto un po' da noi ma anche da altri e non è mai stato smentito, la fondazione è stata informata dell'acquisto a fare ormai fatto. In che senso la politica ha a che vedere con quello che è successo e in particolare con il tema anche del rischio che il Monte dei Paschi iniziava ad assumere con questo tipo di governance? Diciamo che la politica c'è un'influenza in questo senso, diciamo che il punto di svolta dei grandi guai del Monte dei Paschi, oltre l'acquisto di Anton Veneta, oltre alla storia chiaramente dell'Alessandro, è chiaramente il 2011 quando la banca quando sostanzialmente il Monte dei Paschi si trova con un capitale di vigilanza sufficiente ma di qualità bassa che quindi in parte potrebbe perdere e quindi deve sostanzialmente trovare nuovi capitali. Qui il problema fondamentale è stato questo che a Siena è nata una forte opposizione a rafforzare la banca, tanto è vero che poi dopo un tira in molla che dura due anni, dal 2009 al 2011, nel gennaio 2011 la proposta di Siena è questa, noi facciamo un momento di capitale di un miliardo e tre. Dopodiché forse ci diluiamo pure però se tu ce lo fai fare, gli dicono a Banca d'Italia, prima leggiamo il sindaco a Siena, ora a Banca d'Italia dice no perché il sindaco non è mica azionista della banca, non è che un partito può imporre le sue esigenze elettorali rispetto alle esigenze di sicurezza e di patrimonializzazione di una banca e la Banca d'Italia gli dice no, lo devi fare di più, almeno due miliardi e mezzo e non te lo faccio fare dopo il sindaco ma lo fai subito e allora loro a quel punto devono fare buon viso al cattivo gioco e che cosa fanno? Accettano quello che gli dice Banca d'Italia, nel senso non lo spostano più a dopo le elezioni del sindaco ma lo fanno prima, lo fanno mi sembra nel giugno del 2011, maggio e giugno del 2011, però la Banca d'Italia gli aveva avvertiti che le regole sarebbero cambiate e che quindi di pensare bene a quanto doveva essere l'ammontare dell'aumento di capitale perché Banca d'Italia non glielo poteva imporre perché il Montepasco aveva capitale di sufficienza, solo che non lo aveva di sufficiente qualità, gli dice sostituiscilo con del capitale di maggiore qualità. La migliore operazione sarebbe stata farlo di 5 miliardi, loro lo fanno di 3 e dopo due mesi l'Eba scopre che al Montepasco gli mancano altri 2 miliardi. Ok, grazie, grazie ancora.